Manca solo l'ufficialità, ma in pratica è fatta. La deputata Stefania Pezzopane sarà il candidato del centro-sinistra, che sfiderà il sindaco attuale Pierluigi Biondi e il ricandidato per il centro-destra, alle amministrative di primavera. Stefano Palumbo, capogruppo in Consiglio Comunale, fa un passo indietro e quindi per la candidatura della Pezzopane nella coalizione non ci sarebbero più ostacoli. In virtù della scelta di Palumbo, che ha messo da parte le aspirazioni personali, lui potrebbe essere inserito come capolista dei democratici, ma sono solo supposizioni. La riflessione che ha affidato al suo blog è abbastanza amara. Ho trasformato, ha scritto, la mia iniziale disponibilità ad essere il candidato sindaco di una coalizione unita nella disponibilità di fare un passo indietro in favore di un nome di sintesi, al di fuori di quelli già in campo, autorevole, riconoscibile, competente e disponibile. Si sarebbe trovato se solo si fosse voluto, perché in città di persone con questo profilo ce ne sono fortunatamente tante. Purtroppo altri candidati ed esponenti politici sono stati di diverso avviso. Di conseguenza il tavolo, faticosamente costruito, si rompe, ha proseguito e senza unità viene a meno anche la mia disponibilità ad essere il candidato di una sola parte. Ho fatto della coerenza la mia strada, non devierò neanche questa volta. Ringrazio tutti quelli che insieme a me ci hanno creduto, lavorando per raggiungere l'unità e poi difenderla. Non ce l'abbiamo fatta, ma è stato importante provarci delle mie scelte future. Ha detto, parlerò nei prossimi giorni in conferenza stampa. Il 5 febbraio sono stati sciolti nodi dopo l'incontro delle Forze Democratiche Progressiste del centro-sinistra, che hanno scelto il profilo a cui affidare l'onore e l'onere della candidatura. Un profilo politico, perché si era aperta pure la strada su un profilo civico. La nota diffusa non fa nomi, ma è piuttosto esplicita. Nel documento si precisa pure che l'esperienza civica del passo possibile, coerentemente con la posizione espressa nei giorni passati, ha deciso di orientarsi verso un differente percorso, con la consapevolezza che, pur con sensibilità differenti, sia il comune obiettivo di dare alla città un governo alternativo a quello attuale. Insomma, Americo Di Benedetto lo aveva annunciato in conferenza, in caso di un nome non unitario, sarebbe andato da solo, e così pare. Il Movimento 5 Stelle, che aveva lanciato la candidatura del professor Fabrizio Marinelli, che però subito aveva detto no alle primarie, primavera aquilana e rifondazione, faranno un ulteriore passaggio nei loro organismi e decideranno come affrontare la campagna elettorale, ma è improbabile che non lo facciano con la collezione.